L'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi ha scelto il comune di Castellalto in provincia di Teramo per ospitare il raduno sezionale degli alpini abruzzesi dal 2 al 4 settembre che porterà a Castelnuovo Vomano più di 10.000 penne nere. Il gruppo alpini di Castellalto con i suoi 105 aderenti è molto attivo sul territorio soprattutto nelle attività di protezione civile ed è proprio questa vocazione all'assistenza della popolazione nelle emergenze con i volontari dell'ANA già impegnati con vari gruppi nelle operazioni di soccorso post terremoto nell'ambito della colonna mobile della protezione civile della regione Abruzzo che ha spinto a dedicare interamente questo raduno alle popolazioni colpite dal terremoto. L'associazione sta studiando in che modo e in che termini raccogliergli questi fondi per poter poi fare un intervento simbioso con le tre sezioni interessate che sarebbero la sezione di Roma, la sezione delle Marche, la sezione Abruzzi a che si possano eseguire degli interventi che possano risolvere nell'immediato per riportare alla normalità la vita in queste comunità. Noi in tal senso avremo l'occasione con il raduno di Castellalto in cui chiederemo sensibilizzazione a tutte le amministrazioni dove noi abbiamo i gruppi se vogliono farsi partecipi delle nostre attività raccolta di fondi a che poi si possa fare un intervento concreto e ove il nostro supporto economico della sezione Abruzzi e dell'Abruzzi indera possa essere sostanzioso e un supporto significativo. Molti si aspettano questo raduno anche perché è la prima volta che facciamo un raduno regionale a Castellalto. Da parte dei cittadini c'è molta curiosità e anche come amministrazione abbiamo cercato di dare il meglio dal punto di vista logistico perché sono attese migliaia di persone quindi abbiamo cercato di collocare su tutto il territorio l'arrivo degli alpini. Sicuramente molte attività andranno dedicate a un pensiero va anche alle vittime del terremoto e anche tante attività saranno rivolte a questa purtroppo tragedia che è avvenuta.